mi scusi, benvenuta, sto aspettando molto, ok, scusi, ho appena finito la pausa, stavo venendo di bere il mio cappuccino, benvenuto nel mio negozio, come posso essere le utile? volevo un libro, ok, più o meno il genere, ho un'idea, gialli, fantasy, ok, allora vediamo che cosa ho in magazzino, sono libri recenti o anche un po' più vecchi, ok, ha per caso un budget in mente, no, vabbè, e per caso ho già la nostra carta, vederli di carta, così quando compra più libri, acquista punti, vorrebbe farlo, ci mettiamo tutto 5 minuti a farlo, non ci vuole più niente, tanto rimane virtuale, quindi lei passa che poi viene con il codice o con semplicemente il suo cognome, e noi le passiamo i punti ogni volta che compra un libro, compra qualcosa nel nostro negozio, va bene, ok, deve dire la sua data di nascita, può ripetere il suo cognome, ok, il suo domicilio o residenza, numero, vuole per caso avere offerte al di fuori del nostro negozio o solo del negozio, va bene, può lasciarle su e-mail, c-mail, giusto, ok, perfetto, un recapito telefonico, ok, perfetto, a preferenze, quindi che gli mandiamo i messaggi tramite e-mail telefonicamente, ok, va bene, perfetto, adesso gli verrà generato il computer e la sua carta virtuale, se la vuole anche fisica, non c'è nessun problema, io la faccio anche fisica, va bene, se la vuole anche fisica, ok, solo un attimo, perfetto, gli verrà montata a casa adesso la carta tra circa sette giorni, così potrà attivarla direttamente nel nostro negozio, allora le chiedo gentilmente, quel libro preferisce, io gliela elenco in alcuni, allora nel magazzino abbiamo vari libri gialli, tra cui molti di H.T. da Cristi, come l'assassino del Rentexpress, abbiamo tanti suoi libri, se ne abbiamo anche dei libri di Sherlock Holmes, c'è anche di vari gemelli genere, sui complotti, su magari i templari, sono tantissimi libri, se ne abbiamo molti libri, anche come mi ha detto a lei che mi piace molto di filosofia, abbiamo libri su Platone, Socrate, ok, adesso cerco un attimo, allora, mi ha detto il simposio, ok, il simposio di Platone, però, o all'edizione, ok, è molto chiare, ok, vedo un attimo se ce l'ho negli scaffali, ok, allora, al momento il scaffale non c'è, ma volendo possiamo ordinarlo, perché ne ho solo una copia, e purtroppo non è in ottime condizioni, sono quelle che abbiamo da leggere qua in negozio, quindi se vuole io la posso ordinare, va bene, ok, non ho bisogno di acconto, quando arriva, poi la chiamiamo, costa all'incircata 10-15 euro, dipende dall'edizione, per quelle chiedevo le chiedevo, va bene, ok, invece per quanto riguarda i libri, abbiamo appunto, le ripeto, alcune chiedevo da Cristi, abbiamo anche altri fascicoli, insieme, c'è vedere su computer, romantici, classici, ci sono anche delle offerte, che si acquista due libri, li paga 9,90, tutti e due insieme, è un'offerta che abbiamo dal mese, vuole che gli riempiono alcuni, allora abbiamo, qua, tutta la saga, di Shadowhunter, l'abbiamo anche lì, prima di te, e poi c'è ok, d'acca da Cristi, ok, quale preferirebbe? L'assassino sull'Orient Express, va bene, vedo se ce l'abbiamo, dovremmo farci le 5, vado a controllare un attimo, scusa, l'assassino sull'Orient Express ce l'abbiamo, si mi hanno detto che sono scafale 3, ok, un attimo, c'è la mia colla che lo va a prendere, scusa, intanto, intanto, secondo il mio cappuccino, intanto se vuole ne cerco altro, va bene, quindi mi ha detto che vuole io prima di te, è bellissimo, io lo consiglio veramente come libro, secondo te lo se ce l'ho, allora qua, ma in realtà che ce ne sono due, se non sbaglio l'ho visto sulla seconda corsia, qui dovrebbe esserci sicuramente, adesso, io lo prendo, allora, questo qui ce l'ho, ed è questo, si chiama io prima di te, mi serve questo qui, è bellissimo, io ho letto sia il libro, l'ho visto anche il film, quindi glielo consiglio vivamente, è veramente, veramente molto, molto, è un genere un po' romantico, un po' drammatico, però è veramente bellissimo, io lo assicuro, ma veramente un ottimo, poi sto a testo, è uscito anche il secondo, quindi se vuole, tutto per secondo non ce l'abbiamo momentaneamente, però se vuole lì lascio, lascio il primo, poi se vuole può ordinare il secondo, è veramente molto, perché, veramente, a me è piaciuto tantissimo, non ne spoglierò niente, tanto se vuole l'ordine un secondo, va bene? Ok, il costo più o meno è 10 metri più alto di questo, dovrebbe essere su 15,90 euro, ok? Lo vorrò arrivare più o meno insieme all'altro che mi ha ordinato, ok? Allora, mi ha ordinato il simboso di Platone, e il seguito di questo qua, io dopo l'idea, questi qual mi diamo in sospeso, alla mia collega adesso mi ha trovato quello di H.T. da Cristi, che è questo nome, l'assassino sull'Oriente Express, è molto piccolino, ma anche questo è veramente bello, di H.T. poi ce ne sono tantissime, se vorrai, vi faccio vedere proprio la, diciamo, l'area riservata a tutti questi libri, se poi lo li trovo, li può comunque ordinare la mamma, non sono proprio a me. Io ho questo qua anche l'ho letto, visto anche il film, se ce l'abbiamo anche in audiolibro, questo qua se vuole, lo posso mettere insieme se vuole, è veramente, veramente molto bello. Questo qua sta, se non sbaglio, appunto, con l'offerta, come gli ho detto, che paga tutte e due, 9,90. Basta così, io desidero altro. Ah, vuole sapere dei libri di filosofia, e allora, spettiamo. Allora, ho due libri al momento. La prima lezione di filosofia, l'altra, se lo sbaglio, se lo scaffale, è di Giuseppe Campiano, la storia della filosofia antica. Qual è la prima lezione? Ok. Dovrei averne uno al momento. Se vuole, io lo vado a prendere. Un'ottima. Ecco. Allora. Questo qua è il libro, che è la prima lezione di filosofia antica, di Bruno Centrone. E questo qua è molto piccolino come libro, però è molto complicato nelle parole, ma se vuole iniziare, diciamo, ad approfondire la sua cultura di filosofia, io lo raccomando, perché è veramente molto bello. Poi ne abbiamo tanti altri. Come vedete, comunque abbiamo una vasta gamma di filosofia, che è di psicologia, se ne può interessare. Ok. Questo qua lo prende bene, io lo metto sempre in mezzo suo. Ok. Vorrebbe anche qualche altro libro, o qualche altra cosa? Disegno libri. Perfetto, ok. Ti disegno solo, perché devo uscire dallo scontrino. Per caso esisterà una fattura. Sì, va bene. Di vedere solo qua i suoi documenti. E dove lavora. E' codice fiscale. Ok. Tutti i miei. Un attimo. Che potrebbe fare le fatture, ci vuole un po' di tempo. Ok. Adesso la manderò in stampa. E gliela porterà poi la mia collega in cassa. Va bene? Io adesso le lascio tutti i suoi libri, più la ricevuta dei libri che dovranno arrivarle. Se poi avesse qualsiasi problema, posso andare tranquillamente. per prendere appunto i suoi libri che ha prenotato o poi prenderne altri. Spero di essere stata d'aiuto. Non si figura, non c'è nessun problema. La fattura la richiede in cassa. Prima di pagare, mi raccomando. Niente, si guardano la sua lettura. E mi raccomando, se le va, visiti il nostro sito, che troverà online, o quando arriverà la carta. Decidi come si è trovato. Le auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie. Grazie.